Entro la prossima legislatura inaugureremo le nuove strutture ospedaliere di Avezzano, Lanciano e Vasto, i cui cantieri partiranno a scaglioni, il primo entro la fine dell'anno. La centrale del 118 dell'Aquila ha già lavori appaltati grazie a una parte di fondi di Regione Asl ed Emilia Romagna che sono già in campo. Le parole del Presidente di Regione Marco Marsiglio questa mattina dopo il via libera della conferenza Stato-Regioni sui finanziamenti che di fatto sbloccano un progetto che ha più di 25 anni se si considera la prima delibera del Cipe. Il diverso lavoro serio, silenzioso e costruttivo di chi ha portato a casa questi finanziamenti che marcivano come ha ricordato da 25 anni nelle casse dello Stato e che l'Abruzzo non era mai riuscito a trasformare in servizi, in ospedali, in nuove strutture. Per il nuovo ospedale di Avezzano sono stati stanziati 119 milioni di euro, per Lanciano 109 milioni, per Vasto 150 milioni e per la centrale del 118 dell'Aquila 10 milioni di euro. E' importante questo traguardo che vede la realizzazione attraverso fondi del Ministero, fondi Cipe che equivalgono a 300 milioni con un'aggiunta di 80 milioni da parte della Regione Abruzzo suddivisi negli anni quindi con investimenti importanti perché noi dobbiamo dare un'assistenza di qualità e soprattutto una riorganizzazione in maniera precisa e attenta su tutto il territorio. E si sblocca anche la situazione legata alla centrale operativa del 118 dell'Aquila che aveva raccolto una grande solidarietà come ha ricordato il primo cittadino Pierluigi Biondi. Sì, era un'opera che aspettavamo da moltissimo tempo, su cui si era concentrata anche la solidarietà del sistema di protezione civile dell'Emilia Romagna che aveva raccolto oltre 2 milioni di euro per questo obiettivo. è stata parcheggiata per troppo tempo, do merito al Presidente Marsilio, alla sua amministrazione, all'assessore Verì di essersi messi con caparbietà a recuperare, a sbloccare queste risorse che daranno finalmente una nuova centralità all'ospedale San Salvatore dell'Aquila così come prevede anche il piano di riordino della rete ospedaliera che è un altro documento strategico che attendevamo da molto tempo.